Pianco, sogno, esulto, urlo, amo, vivo, perché? Sei parte di me, campagna abbonamenti, annusa calcio, 2015, 2016. La storia continua, scriviamolo insieme, abbonamenti, 2015, 2016, canusa calcio. Il sipario si sta per aprire, sei pronto a vivere il grande spettacolo del canusa calcio? No, non è se sei tu, chi ne ha corretto il campo con noi? No, non è se sei tu, chi ne ha corretto? No, non è se sei tu, chi ne ha corretto? No, non è se sei tu, chi ne ha corretto? No, non è se sei tu, chi ne ha corretto? Grazie a tutti.